Cesare Di Liddo del KC di Pavone, primo nella categoria dei veterani nel QMIT, direi che meglio non poteva andare. Diciamo che a questa età qua meglio di così sarebbe stato quasi impossibile immaginare, quindi sono molto contento di questo risultato. Una gara importante, una stagione che è cominciata nel migliore dei modi. Una gara importante a livello internazionale, quindi sì, è iniziata nel migliore dei modi, anche perché nella prossima primavera ci sarà il campionato europeo, quindi che sia di buona auspicia. Che cosa è la stagione ovviamente con i campionati europei in primavera, improntata tutto su quella gara? Diciamo che sì, prevalentemente sarò impostata su questo, non su altro, però cercheremo di onorare tutte e anche tutte le altre gare. L'importante sarà arrivare al top della forma a questo appuntamento? Sì, senza dubbio.